Mezzanotte e 4 minuti, buonasera, ultima edizione del nostro telegiornale a Tokyo. Oggi è stata spenta la fiamma olimpica, i giochi rinviati, iniziati tra mille difficoltà senza pubblico, con gli atleti chiusi in una bolla, sono terminati per l'Italia con il record di 40 medaglie. L'ultima è arrivata nella nostra notte di ieri con le farfalle della ginnastica ritmica. E' stato un successo, il successo di un paese multietnico, ha detto il presidente del CONI Malagò. Sulle note dell'inno all'amore, canzone simbolo di Edith Piaf, il testimone olimpico passa da Tokyo a Parigi. La speranza è ovviamente che non si ripeta, l'esperienza di una edizione vissuta da tutti in una bolla anti-covid, con pochissima gente sulle tribune e senza contatti ravvicinati fra le persone. Il comitato organizzatore ha stupito tutti con uno spettacolo di grande effetto, sotto lo sguardo di molti atleti e entusiasti per aver partecipato a giochi senza dubbio unici. E unici lo sono stati per la spedizione italiana, che porta sull'aereo di ritorno un risultato mai così esaltante. 40 medaglie e 4 in più rispetto a Los Angeles 1932 e Roma 60. 10 ori, 10 argenti, 20 bronzi. Nel bilancio di Giovanni Malagò si è evidenziato come l'Italia abbia conquistato almeno una medaglia tutti i giorni. Ma il presidente del CONI ha battuto anche il tasto di un'Italia multietnica e senza confini, in grado di far maturare talenti senza badare al loro luogo di provenienza. Oggi è stata la squadra della ginnastica ritmica a chiudere la magica serie dei piazzamenti azzurri da podio, chiudendo al terzo posto alle spalle di Bulgaria e Russia. E adesso facciamo il punto sulla pandemia, c'è da dire che si continua a ripetere di tenere comportamenti prudenti, di non creare assembramenti in luoghi chiusi. Invece arrivano notizie dalla riviera romagnola di locali che sono stati chiusi perché al loro interno ballavano migliaia di persone senza alcuna precauzione. Ovviamente chiusure e anche multe sono arrivate. Ancora più di 5.000 nuovi casi in un giorno, con oltre 200.000 tamponi processati e l'indice di positività in salita al 2,8%. I dati dell'ultimo bollettino quotidiano della pandemia mostrano gli effetti della lenta risalita della curva epidemiologica in Italia. Le vittime sono 11, crescono i posti letto occupati in terapia intensiva e i pazienti ricoverati nei reparti covid ordinari, ma le soglie di allarme sono ancora ben distanti. Occorre però mantenere comportamenti prudenti e rispettare le regole. Nel fine settimana, lungo la riviera romagnola, la polizia locale ha disposto alla chiusura per 5 giorni di tre discoteche per violazione delle normative anti-covid. In un locale di Rimini ballavano oltre 1.000 persone ed era presente un solo addetto alla sicurezza. Altre due discoteche sono state chiuse a Cattolica e Riccione. I gestori si dicono pronti a restituire le licenze per riaprire come circoli privati che hanno meno vincoli ai soci e consentito ballare. E non diminuiscono di intensità nemmeno le polemiche sulle nuove norme anti-covid previste per la scuola. I presidi che attendono il passo indietro del governo sulle multe nei casi di omesso controllo chiedono anche per poter effettuare i controlli sui green pass obbligatori per insegnanti e personale scolastico, risorse per assumere 8.000 addetti di segreteria e, aggiunge il presidente dell'Associazione Nazionale Presidi, Antonello Giannelli, serve anche una banca dati per conoscere chi non è in possesso del green pass. È in arrivo una settimana di grande caldo, c'è il rischio che vengano alimentati gli incendi che stanno devastando alcune aree del nostro paese. Lo ha detto oggi il capo della protezione civile Curcio che teme che i nuovi roghi si vadano ad aggiungere a quelli che infuriano in Calabria, Sicilia, in Molise. Proprio in Calabria, dove ci sono stati nei giorni scorsi due morti, c'è la situazione peggiore, stanno bruciando le foreste vetuste dell'Aspromonte, quelle che l'UNESCO ha da poco inserito nella lista dei luoghi da tutelare. Mario Draghi ha firmato un DPCM che prevede la mobilitazione della protezione civile. È una crisi climatica globale, quella che sta alimentando in tutto il pianeta giganteschi roghi, dalla California alla Bolivia fino appunto all'Italia, alla Grecia, la Turchia. In Grecia, sull'isola di Evia, l'antica Eubea, di fronte all'Aptica, da cinque giorni il fuoco avanza spinto dal vento. È arrivato fino alle spiagge dove sono rifugiati residenti e turisti in attesa di essere evacuati da traghetti e navi militari. Villaggi del nord sono stati isolati, boschi, pinete, abitazioni sono stati devastati dalle fiamme. In azione ci sono 17 mezzi aerei, 260 vigili del fuoco supportati dai colleghi arrivati da Romania e Ucraina, 200 in tutto e 23 autobotti. La Grecia questa sera ha chiesto aiuto anche al Pentagono, chiedendo appunto l'invio di uomini e mezzi, aggiungendosi a Francia, Cipro, Israele e Germania che già hanno promesso una mobilitazione. Al momento ci sono state due vittime. Inoltre nel pomeriggio a Zante, nelle isole Ionie, un aereo antincendio è caduto, illeso fortunatamente il pilota. La politica dopo aver annunciato ieri la intenzione di modificare la riforma della giustizia siglata Cartabia, Giuseppe Conte adesso tiene il punto e difende il reddito di cittadinanza, bandiera del Movimento 5 Stelle, in questo momento sotto attacco soprattutto da parte di Italia Viva e della Lega. Anteprima del dibattito d'autunno, il reddito di cittadinanza sale in cima all'agenda dei partiti italiani. Ad accendere le reazioni delle forze politiche, un passaggio del discorso di saluto di Mario Draghi prima della pausa agostana. È troppo presto per dire se verrà riformato, ma il concetto alla base del reddito di cittadinanza io lo condivido in pieno, aveva chiarito il Premier. Parole di miele per il Movimento 5 Stelle che del provvedimento ha fatto fin dal 2018 la propria legge bandiera e che Conte, ora ufficialmente alla guida, difende strenuamente il reddito, non si discute. Una risposta all'offensiva del leader di Italia Viva, Matteo Renzi, che ha promosso l'idea di un referendum abrogativo del sussidio, trovando il favore del segretario della Lega, Matteo Salvini, per il quale il reddito si è rivelato un disincentivo al lavoro e un inno al lavoro nero. Abolizione no, ma revisione sì. Per il Presidente della Camera, Roberto Fico, la misura può essere ampliata, migliorata, ma non depotenziata. Ed è questa la linea del resto del Ministro del Lavoro, il Dem Andrea Orlando, che ha in mano il dossier. Il reddito di cittadinanza va migliorato, ma a partire dai dati. Con questo obiettivo, al Ministero sta lavorando per la valutazione del sussidio, già da marzo. Un comitato scientifico, composto da esperti, è presieduto dalla sociologa Chiara Saraceno. Nell'Afghanistan, lasciato dalle truppe internazionali, avanzano i talebani. Oggi sono riusciti a prendere altre città. Kunduz, Saripul e Talokan sono state conquistate senza difficoltà. In particolare Kunduz è una città strategica per i talebani. Si trova sulla via d'accesso alle risorse del nord ed è crocevia di tutti i traffici doppio. In vent'anni le truppe NATO sono riuscite solamente a contenere mai a sconfiggere i talebani, che adesso, con il loro ritiro, stanno avanzando senza incontrare resistenza. Biden resta fermo sulla decisione del ritiro, ma i droni che già stanno operando su Kandahar, Erat, Lashkar, Gha, si sono aggiunti dei bombardieri B-52 AC-130 Spectre, che sono andati ad operare a sostegno dell'esercito afgano. E adesso l'addio al Barcellona del calciatore Lionel Messi. Ha detto in lacrime, è molto difficile per me lasciare dopo così tanti anni, ma rimanere non è stato possibile. Alle sue spalle ci sono 35 trofei vinti nei 21 anni di militanza blaugrana davanti ad una platea di parenti, dirigenti, ex compagni, tutti in piedi ad applaudirlo. Messi ha confessato il suo rammarico, non sono pronto, onestamente non è come avevo pensato. La Pulce avrebbe voluto salutare i tifosi in uno stadio gremito per ricevere l'ultima ovazione. Non so se il club abbia fatto tutto il possibile per tenermi, ha detto. Ero anche disposto a dimezzarmi lo stipendio. Quanto al suo futuro al Paris Saint Germain, ha detto che è una possibile destinazione, ma ancora nulla è stato deciso. Ma secondo i media spagnoli, le visite mediche potrebbero svolgersi a Parigi già domani mattina. Ma sanotte 13, quasi 14 minuti. Noi ci fermiamo qui domattina alle 7. Come sempre torna l'informazione. Grazie, arrivederci, buonanotte. Grazie. Grazie. Grazie.